Vanno punite, ma vanno veramente punite col massimo. Io dico che... Questa storia di venire in televisione, poi c'è chi incenda la sedia per venire in televisione, c'è chi ammazza il bambino per venire in televisione, c'è chi mostra le gambe per venire in televisione. Ma guardi, lei sta facendo un discorso... Guardi, mi scusi, mi scusi, ma veramente, io mi auguro che lei stia prenda a conto di quello che dice, perché io direi che non so, io non ho una grande considerazione per lei. No, 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 non siamo però fuori dei consigli. Non le parlo, guardi, al di sotto delle mie possibilità. Senti, al papà, l'avrai sentito.